Bentornati su Radio Design, sono sempre io e Nicola, mi conoscete, ma oggi abbiamo qui vicino una splendida creatura, Giulia, che odia la radio, odia tutti voi, e Filippo, benvenuti. Filippo nel microfono, perché sono sentita una mazza, giustamente. Giulia, non abbiamo sentito... Piacere, salve a tutti. Sì, perché oggi siamo qui in vetrina, mentre tutti ci salutano, non ci caga nessuno in questo momento, questa ragazza forse potrebbe girarsi in questo momento, non lo farà. Allora, cosa raccontiamo oggi? Raccontiamo un contest, ok, in vista del 9 maggio, un evento dedicato all'Europa, e allora chi di voi vuole iniziare a raccontare questo splendido contest? Filippo, in cosa consiste questo contest? Questa tua idea, questa vostra idea? Allora, è un contest grafico, semplice, classico, che ha appunto come tema l'Europa, per se quindi sia negativa, aspetti negativi che positivi. E diciamo, prima di tutto, l'obiettivo di Calt e del contest è quello di informare, prima di tutto, mostrando che appunto i file, le grafiche, i disegni che si erano sia positivi che negativi, appunto la visione reale dei perugini e degli Umbri rispetto all'Europa. E come ho organizzato questo contest? Come funziona? Spiegaci un po'. Allora, il contest è già partito e quindi tutti quanti possono inviare il file, che rappresenta meglio l'idea, sull'evento di Facebook, già creato. I partecipanti avranno dai 15 ai 30, 35 anni. Sono fottuto. A niente, l'ho superato da poco, mi dispiace. Si è perso un'occasione, sì, sì, sì. Tanto non so fare neanche un cerchio, quindi non avrei partecipato. Avessi potuto vincere. Quali sono i link? Dove devono spedirlo? Allora, c'è un modulo di Google collegato con l'evento di Facebook, il contest ESE per Road to Europe. Ok. Niente, questo bisogna iscriversi e mandare il file. Quindi adesso la gente può creare un prodotto grafico che per loro rappresenta l'Europa, giusto? Sì, sì, esattamente. E quello che la rappresenterà meglio ci sarà una giuria e due premi. Il primo verrà sviluppata questa grafica in forma tridimensionale con una stampa 3D, che però, che verrà poi esposta a Calt, appunto, la nostra hub di comunità in pieno centro storico. E il secondo premio è un'iscrizione al workshop gratuito su un utilizzo di Instagram dall'Istituto Italiano Design, che il nostro Nicola ci potrà meglio descrivere. Ok. E questo qua. E questo. Bene, allora, sì, intanto la cosa è fighissima. Avevi detto la giuria, in giuria ci sono anche i nostri due docenti, che saluto Marco Leombruni e il grande prof di progettazione grafica. Allora, sì, il corso, ho pensato a questo punto che sarà un premio per chi, diciamo, supera questo contest, vince questo contest. Intanto Giulia, tu cosa ci vuoi raccontare? Cosa farai quel giorno del 9 maggio? Io quel giorno accoglierò tutti e dirò buongiorno. Poi quel giorno niente, ci sarà solo la premiazione, quindi il mio compito, il nostro compito finisce. Quindi tu in quel momento, cioè, terrai in mano il premio e lo consegnerai? Sì, faccio la valletta. Fai la valletta, fai la valletta. Favamo le veline, io, Filippo. Le veline. Allora, intanto è arrivato già qualcosa o è ancora presto, immagino? No, ancora è presto, anche perché è partito meno di una settimana fa, qualche giorno fa. Adesso sotto Pasqua vi dovete mettere sotto? Sì, 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 quindi tutti quanti si devono mettere sotto. Pasqua, basta mangiare, l'agnello, eccetera, tutto è di segnale. È vero, l'agnello, me l'ho dimenticato questo particolare che si mangia l'agnello. Quanti agnelli, venni freezer degli italiani. Ci sono. Ok, allora intanto ricordiamolo, quindi l'evento si chiama S. Road to Europe, più o meno lo cercate così su Facebook. S. Road to Europe è la giornata del 9 maggio, che ha tante attività a Piazza del Melo, l'Informa Giovani. Ci saranno tanti sportelli di informazione e tante, tante attività. Sì, ci saranno diverse attività, infatti ci saremo anche noi, faremo qualche diretta. Ci sarà anche un workshop del nostro professore Marco, che ha lanciato questa idea fighissima del se un supereroe fosse atterrato, se Superman fosse atterrato in Sardegna, anziché negli Stati Uniti, che forme avrebbe, che colori, che tu, secondo te Giulia, che tuta potrebbe avere un Superman sardo? A forma di pecorella. Una pecorella come simbolo, anziché S, una P di pecorella. La testa della pecorella. Ok, questo abbiamo già lanciato l'idea, quindi potete... Non vi offendete, amici sardi? No, 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 poteva essere anche, che ne so, una nuraghe, quelle costruzioni tipiche sarde, a forma di imbuto rovesciato, non lo so. Ok, allora, quindi, ricordiamo, immagino che anche sul sito di Calt possiamo trovare le informazioni. Yes. Ok, quindi andate su Calt, lo rilancieremo anche noi con l'Istituto Italiano Design. Già trovate i link nell'evento, dove siamo co-host. Quindi partecipate a questo contest, vi aspettiamo il 9 maggio, avremo sia la radio, avremo questo workshop. So che ci sarà anche Calt con diverse attività, ci saranno tipo 3-4 radio, quindi sarà tutto un momento radiofonico. Sì, sì, Piazza del Melo è infestata, proprio, delle diverse... Se ricordo bene ci saranno anche degli eventi fighissimi, tipo cose per bambini, eccetera. Sì, giochi dell'Oca, i ribatti... Solo che io odio i bambini, volevo dirvelo. Quindi dove ci saranno i bambini io non ci sarò, mi metterò in un angolo con quelli più adulti. Sì, sì, aspettiamo l'aperitivo, li facciamo andare tutti via, a casa e parte l'Europa Night. Europa Night. Poi ci saranno vari DJ set, se non sbaglio, a cura di Radio Cult, giusto? Sì, anche ci sarà Radio Cult. Ci saranno vari DJ set, ci sarà Radio Fonica, adesso qui conflitti di interessi. A go-go e quindi parleremo di questo progetto Play Europe. Infatti anche voi ragazzi partecipate a queste cose qui. Com'è il vostro inglese? Com'è messo il vostro inglese? Bene, bene, ho fatto il linguismo, così la dovrei sapere. Adesso loro parliamo in inglese, detto... Let's talk in English. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Cioè neanche non c'è bisogno, mi hai detto in inglese. Qualcuno non capisce. Ah, giusto, lo fai per gli altri. Sei magnanima, Giulia. Ok, va bene. Vogliamo aggiungere qualcos'altro? Tu parteciperai al contest con un grande conflitto di interessi? No, anche perché vincere il proprio contest sarebbe un po'... Sarebbe strano. Il deludente. Va bene, allora niente. Fate girare questa news e mi raccomando, ci vediamo il 9 maggio. Yes. Che poi anche la canzone è liberato. Non so se la conoscete. Sì, 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 è vero, è vero, è vero. Salutiamo anche la gente. È stato bellissimo. Giulia, ti devi un po'... Dobbiamo rifare questa cosa fra una settimana, ti vedo un po' più... Porremmo parlare di qualcosa altro. Parliamo di... Ma hai spento il microfono, Giulia, all'improvviso? No. No, io ci sono. La tua voce che è flebile. S'abbè in abituata, Giulia. Ti sei abituata. Adesso chiudiamo e facciamo una puntata su... Sì, sì, adesso continuiamo. Ok, noi chiudiamo e ripartiamo, allora ciao. Ciao, grazie mille. Ciao. Ciao.